Buongiorno amici e bentrovati per questa pausa estiva lunga della MotoGP. Cosa possiamo dire dopo il fantastico Gran Premio del Saxering? Quanto porta sfortuna aver cambiato casacca? Già perché se guardiamo i primi dieci al traguardo nell'appuntamento tedesco vediamo che di piloti che il prossimo anno cambieranno marchio ce ne sono pochini, pochi pochini. I riconfermati sono quelli che sono andati meglio. Visto che il mercato ci ha regalato grossi sconvolgimenti e visto che manca ancora metà stagione e passa alla fine di questo 2024 speriamo che non sia l'andazzo che verrà poi confermato anche nelle altre gare. Il podio è tutto di persone confermate. Pecco e Alex Marquez saranno nello stesso team e con la stessa moto. Mark Marquez viene promosso, secondo, viene promosso nel team ufficiale. Gli unici che si sono intrufolati un po' sono stati i nostri due riminesi. Enea Bastenini, quarto, nuova medaglia di legno. E Marco Bezzecchi, ottavo, il recupero, un po' una mezza rinascita in un gran premio che era cominciato malissimo il venerdì e che è riuscito a raddrizzare poi piano piano, meglio il sabato e discreta la domenica. Tanto da essere quasi contento di un posto nei primi dieci. Ma gli altri sono tutti piloti confermati oppure che sono in cerca di una conferma. Benissimo Morbidelli, quinto, in attesa di contratto dovrebbe andare al VR46 sulla seconda motocicletta che dovrebbe essere una GP24. Bene Olivera, anche lui in attesa di rinnovo in aprilia con una possibilità di andare in Yamaha, Pramac prima. Bene anche Raul Fernandez, anche se ha sempre queste gare che cominciano discretamente e finiscono poi incalando decimo. Del resto tutti quelli che hanno cambiato casacca sono fuori. Caduto Martin che dovrà andare in aprilia. Andato malino Maverick Vigna-Less, uscito di strada nelle prime battute un brutto fuoripista a grande velocità e poi rientrato a diciottesimo e ha recuperato fino al dodicesimo. Quindi la realtà è che tutti i piloti che il prossimo anno cambieranno a casacca non avranno, non hanno avuto un buon risultato. Alex Spargarò che sarà collaudatore di Honda dopo aver promesso amore eterno ad aprilia è andato male male. Quindi cosa resta da dire? Resta da dire che speriamo che cambi. perché altrimenti questo mercato bulimico, questo mercato che si è svolto con grande anticipo rischia di rovinare un po' il resto di una stagione che si annunciava ed è molto bella. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.